Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Buongiorno e bentornati sul canale di Alberto. Terzo quadro della serie Neandertal. Un uomo sta mangiando una parte di un animale, un cuore, la parte pulsante, quella che dà la vita. Si ritiene che questi ominidi fossero prevalentemente carnivori, e in effetti questo ne è la testimonianza. Come nel quadro precedente, vedete che c'è una separazione del quadro in due parti. Una dove è presente l'uomo rappresentato, il Neandertal, e un'altra parte. Sembra quasi voler dividere il mondo in due fette. Quella rappresentata dai Neandertal, e quest'altra parte. Quest'altra parte siamo noi.